Roma-Napoli sarà trasmessa in 192 paesi del mondo. È straordinario il numero di televisioni in collegamento con l'Olimpico lunedì pomeriggio. Saranno ben 192 i paesi del mondo collegati. Ci saranno stati in pace, in guerra, piccole isole sperdute negli oceani e grandi nazioni. Paesi di tutti e cinque i continenti, inclusa la cosiddetta porta dell'inferno, il Turkmenistan. Potenzialmente quindi ci sarà più di un miliardo di persone davanti alla TV per seguire Roma-Napoli lunedì pomeriggio. www.pronosticonline.com Tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto. Inoltre, help Serie A, help Premier League, help Liga, help Bundesliga. Tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti, partita per partita, per passare alla cassa. Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati. www.pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni. Scommettete sempre responsabilmente. www.pronosticonline.com 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 www.pronosticonline.com